Salve, buongiorno, va tutto bene? Benissimo, guarda, non vedi? Sì, grazie, è solo che ho esagerato con la spesa un'altra volta, pensi che dovevo comprare solo uno yogurt e invece ho fatto una spesa intera, però lei è sicura di potercela fare? Magari al posto di chiedere poteva anche aiutarmi a mettere tutto nel carello, eh? Sì, non si preoccupi, ora chiamerò mio marito. Ah, perfetto, aspetta dei gemelli. Ma perché non ti fai i c***i tu? No, quanto le devo? Sono 93,85. Venga. Grazie, arrivederci, auguri. Grazie, grazie, arrivederci. Amore, ascolta, io avrei bisogno di te adesso perché ho fatto la spesa e sto facendo veramente fatica. E ho anche le contrazioni. Quale spesa? Sai benissimo che non devi fare cose pesanti, amore. Eh, lo so, mi vuoi aiutare o no? Dimmi dove sei. Oh no! Che è successo? Mi sa che mi si sono rotte le acque. Quale acque? Dai, amore, per favore, concentrati. Devo partorire, mi devi portare subito all'ospedale. Amore, amore. Non è tutto. E... Grazie.